Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special La Roma resta seconda ma Ve siete appagnati eh romanisti Vi siete cagati sotto un pochino Perché in effetti con quel gol all'inizio partita di Pellegris Se non sbaglio se chiami così Si sono un po' spaventati In effetti la Roma ha dovuto poi recuperare Ha segnato subito con Zecco Poi ha spiegato tante occasioni Per fortuna poi è riuscita a rimontare nel secondo tempo Il Napoli d'altro canto è riuscito invece a vincere contro la Sampdoria Anche in questa partita ha espresso un buon calcio Cosa che ha fatto per tutta la stagione Infatti per quanto mi riguarda Il mio parere personale è che il Napoli forse meritasse il secondo posto Però è anche vero che ha perso dei punti Contro Atalanta, Sassuolo, Palermo Quei punti comunque pesano E alla fine è anche demerito del Napoli Se quei punti appunto sono stati persi Peccato perché appunto Sarri ha espresso un calcio spettacolare quest'anno Forse l'unica pecca che gli devo dare È il fatto di non aver fatto molto turnover Vedi Giaccherini, Pavoletti, Maximovic Non sono stati molto utilizzati quest'anno La Roma invece si salva Diciamo Spalletti evita di andarsene bastonato Dai tifosi Con l'addio tra l'altro di Totti Però a tal riguardo ho fatto un video appunto Tributo che se non ne ho già uscito Lo metterò appunto tra qualche minuto Di meglio vostro acquistato nei commenti Lasciate un like se è super giù Siete d'accordo con me E iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Un saluto da Carmi Special Alla prossima Ciao